golden steak contro fucina al mio segnale scatenate l'inverno torna la golden steak in campo torna la fucina è il secondo giorno è il campionato vediamo ancora eccolo qui sante la regala amata e ucci provato io per c'è da spalla alla porta attaccato dal general rizzini pallone morbido per sanchez grande girata parte c'è da c'è casino vediamo alla porta parte il tiro eccolo 1-0 golden steak grande gol di ceda se l'ha toccata qualcuno qui vediamo ha spostato la barriera mose sanchez è autoball far penso di ci sarà da allora usere però è autoball di attenzione attenzione cartavar ma mia che brutto spettacolo ma perché il campo faina perché perché capo faina lo dovete cacciare via rosso dove sono gli arbitri forse contrasto falloso gol annullato intanto rivediamo beh dai comunque la spinta c'è stata la fucina utilizza anche la loro carta rigore presidenziale parte domenico manfredi contro fila corda manfredi ipnotizzato da fila corda altra carta usata dai mister di golden steak rigore presidenziale take eccolo qui parte il penguin contro nardone il penguin non era male il numero 9 ancora per il capitano che mette in mezzo una polpa bellissima segnato proprio lui santiago ma te ucconi ora c'era no faina imbarazzante il suo mancino vediamo parte il fischio la rincorsa il tiro di ma che ucci mi la corda non era facile grande parata sta giocando un po grosso ma tutto velocissima mente un fallo di mano adesso si attiva la carta var eccolo qua, vediamo ma dove ce li hai gli occhi? ma l'hai visto che l'hai presa qua con la schiena? ha detto di usarla uso vediamo rigore, calcio, shot out a cerco, centrocampo eh, direi di sì parte il lama l'ex di turno il lama 1-1 vediamo lo shot out io non so neanche se era finito il tempo ci saranno forse polemiche ah non è il secondo tempo oh mio dio se Messi e Meazza Mbappé e Pelé la scelta della Fucina è due contro due per Nardone è solo Nardone per Bobby che pensa al tiro allo effetto a fila corta Miracoloso e arriva lo stesso al gol vediamo Hack è partito l'hype train ragazzi è partito anche il Golden Steak che si presenta con Geda davanti a Nardone grande chiusura prova a partire Pici Franco bollato da Castagna che lo porta sull'esterno Pici Panseri in mezzo per Obushen Osama che con lo scavetto pesca Geda Geda e la mette dentro due a due rivediamo il replay che palla che palla che palla che palla Geda vediamo Ferreri Ferreri Nardone che ha una carta in mano parte Pici il tiro di Pici oh mio Dio non era male sul secondo palo era disattenta quella difesa del Golden Steak è andata a prenderselo qua il fallo parte Pici sì eccolo qua sì è loco Pici sì è loco Pici 3 a 2 Fucina è loco Pici se prendo gol da Geda rivediamo il replay eh attenzione però prima della ruota viene giocata la carta rigore presidenziale dalla Fucina parte il presidente della Fucina contro il portiere dei Golden Steak parte Manfredi vabbè ma com'è possibile due contro due di nuovo perché non fanno il cambio fila corta e sbaglia tutto attenzione Moise però perché prima gliela ha fatto sbagliare Nardone prova il tiro prova Nardone Nardone Sardone come Maradona e Beckham capolavorno Fucina 4 a 2 Nardone alla Beckham fantastica traiettoria Nardone il numero 4 dei Golden Steak mette a sede del portiere Geda Geda gran gol 4 a 3 fa giocarsi in uno contro uno Bobbi attenzione Moise Moise con la possibilità Bobbi a pane e finisce qua 4 a 3 4 a 3 per la Fucina Bobbi a pane iscrivetevi al canale perché il 79% di voi non è iscritto sì abbiamo notato secondo le statistiche che proprio capita questa cosa ma poi che non mettono mi piace mettete mi piace attivate la campanellina un saluto a Pantelliano e ci vediamo alla prossima partita